Ben ritrovate nel mio canale, è tanto che non faccio tutorial, vi prometto che molto presto li farò, alcuni, vediamo un attimo perché alcuni sarà più un segreto, arriveranno più tardi, ci sono un po' di cosette. Allora, questa fine settimana, trascorso venerdì, sabato e domenica scorso, chi mi ha seguito nel gruppo di Magramè, Perline e Sutash, oppure nel mio profilo di Alessandra Girasole, avrete visto molte foto di Fiera Creativa di Napoli alla mostra Oltremare. Ecco, quest'anno ho fatto un qualcosa di diverso, sono andata nello stand di Brillanti e Creazioni, Brillanti e Creazioni, ecco, di Maria Filomena Mascolo, spero di aver detto bene il cognome, con accanto, anzi io ho fatto di appoggio più che altro, a Conunzia Scarpore. È stata tutta un qualcosa di diverso per me, cioè, non l'ho mai provato a stare, cioè, conosco Mari da molti anni, però non ero mai stata nel suo stand, andavo sempre a aiutare un'altra persona che viene da fuori. E invece quest'anno sono stata lì, all'inizio ero un po' spaisata, però piano piano, perché, ormai lo sapete, io non sono più una perlinatrice al 100%, inserisco perline Swarovski nei miei tutorial di Magrame, come si può notare, però non conosco bene tutti i numeri, cioè, non me li ricordavo, e poi le perline nuove, però penso di esservenne la cavata. Oddio, Mari non mi ha picchiato. Va bene, detto questo, vi volevo far vedere alcune cose che ho comprato da Mari. Prima di dirvi questo, però, vi volevo dire, visto che stiamo ritornando alla normalità dopo il Covid, perché tanto normalità in questo periodo non c'è ancora, però cerchiamo di comprare nei negozi italiani. online, chi abita, ecco, per Brillanti di Creazioni, chi abita a Barletta, anche andare al negozio, comunque comprare, diciamo, nei negozi online anche italiani. E io, in questo momento, rappresento Brillanti di Creazioni. Vi faccio vedere solamente alcune cosette e vi spiego perché non ho comprato moltissimo. Poi giro la telecamera. Allora, ho comprato queste Rocaille 11.0 bicolori. Ecco qua, molto belle. Almeno a mio avviso io ci devo fare una cosetta. Non so se la vedrete subito. E le mie carissime Super Duo. Ecco qua, questo è il colore. Poi, chi vuole il codice, perché c'è un codice lunghissimo. Me lo chiedete e io ve lo darò. Quest'altro, sempre delle... Spero che si veda bene perché, cioè, sono di colori fantastici. Casomai dopo scatto una foto e vi faccio vedere che è molto meglio con le foto. E questo che è tra un viola dorato, un qualcosa di magnifico. Devo dire la verità, non si nota. Ok, vi faccio le foto. Poi, vabbè, delle coppette piccoline dorate. Ok, vi faccio vedere adesso dei cristalli, mezzi cristalli di mari fantastici. Devo dire la verità, questi colori non li ho potuti comprare tutti, ma aveva dei colori stupendi. Mi è dispiaciuto non fare una carellata di tutti i colori, però credetemi, andate sul sito, li troverete e sono veramente belli. Che neanche fuori, magari può capitare di trovarli, ma neanche fuori ho mai visto certe colorazioni così. Vi faccio vedere così, poi vi faccio la foto perché è più semplice. Ecco qui, se non sbaglio ho una foto anche di Nunzia con dei vari filati che vi inserirò. Ecco, va via la luce, sta diruviando qui a Napoli. Ok, sicuramente vi faccio la foto, faccio prima, molto prima. Vi giro e vi faccio vedere il perché ho comprato così poco. E poi ritorniamo. A faccia a faccia, attendo. Allora, togliendo queste cose che vi ho fatto vedere e dopo scatterò la foto, vi faccio il vedere perché ho comprato poco. Calcolate sempre che sono quasi tre anni che io non creavo, ma tutte queste cose io le ho comprate con il tempo da magri, da magri, da magri, scusa, non taglio. Ecco, questi sono di Swarovski, che Mari ancora ha alcune cose, perché poi saprete benissimo che Swarovski non farò più i bigoni, dunque accorrete subito al suo sito, vi lascerò tutto sotto scritto per bene. Poi andiamo qui, ho altre cose qui che comprai sempre anni addietro, sempre da brillanti creazioni, ma ne ho tante anche da altre parti che non ho trovato. Tutte le Super Duo, ormai alcune le ho terminate, che ho comprato. E per fortuna che non sono più una perlinatrice. E poi, qui c'è un po' di tutto, qua sono le, penso le 11, no le 15, qua le 15, che vi devo dire? C'è, che poi io ho messo, non guardate le scatolette, perché io queste sono scatole che mi avanzano e ci metto le cose dentro. Tipo questa qui era qualcosa per il trucco, adesso non mi ricordo. Io ho messo, perché ho anche delle Delica, delle Rocaglie piccoline, ancora queste sono le Delica. Dunque, voglio dire, ecco il perché, poi come notate, altre perle, cose, piano piano le consumerò tutte. Ecco qui. Dunque, questo è il mio piccolo mondo qui, poi ne ho altre che comprai da brillanti creazioni, però non mi ricordo dove, sinceramente. E va bene. Vi giro per salutarvi. E poi, perché vi faccio vedere, vi dico un'altra cosa. Sono tornata da voi per dirvi una cosa che non vi ho potuto far vedere. Una nuova proposta che farà brillanti creazioni tra un po' di tempo. Però non ve l'ho potuta far vedere. E non ve la farò vedere neanche su Facebook o su Instagram. resterà nascosta fino a quando Mari Filomena, mascolo di brillanti creazioni, mi dirà Alessandra, adesso puoi. In molte di voi saranno felicissime. Io ce l'ho lì davanti, ce l'ho lì, ma non posso veramente farvelo vedere. E chi l'ha visto, mi raccomando, zitti, zitti, non dite nulla, mi raccomando. Adesso vi farò fare una garellata di quello che ho comprato, così vedete bene i colori. E anche di tutte le amiche che mi sono venute a trovare da Mari, brillanti creazioni. Un bacione. Ciao ciao, alla prossima. Tornata brevemente per dirvi che questo video è dedicato a brillanti creazioni. Ma io non ci guadagno nulla, cioè sono solamente un'amica, ok? Dunque non è uno sponsor dove io vado a guadagnare se voi comprate. Assolutamente no, solo per amicizia, ok? Adesso carellata di foto. Un bacio. Ciao ciao.